Ve lo confesso senza nessunissimo problema, oggi non avevo la minima idea di che argomento trattare e quindi ho pensato facciamo un video sul blocco creativo, come mai ci troviamo in questa circostanza spavorevole e soprattutto come uscirne e quindi vi vado a portare un esempio che non è un esempio di come ne sono uscito io, ho semplicemente ripescato tra vecchie foto che ho fatto e oggi vado a proporvele come spunto creativo e sarei anche curioso di vedere se qualcuno di voi vuole replicare quanto io ho cercato di realizzare nel lontano 2014. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia e oggi vi parlo di come superare il blocco creativo del fotografo con un semplice step. Andremo innanzitutto a vedere delle immagini che io ho realizzato, vi sottoporrò questa tecnica e ve la porto come esempio perfetto per cercare di sbloccarvi se avete questo problema, se avete il problema del blocco creativo, nel momento in cui andrete a tentare di realizzare qualcosa di simile a quello che ho fatto io, non sarà uguale, però nel momento in cui andrete a tentare di realizzare qualcosa di simile, secondo me vi partirà qualcosa in testa, vi verrà voglia di fare cose, di sperimentare oltre e il blocco creativo sarà belle che dimenticato perché vi metterete a fare delle cose, avrete le mani occupate. Prima di cominciare fatemi sapere in un commento se vi è mai capitato di trovarvi in condizioni di blocco creativo, sia che si trattasse di scrittura, di pittura, di arte in generale, noi qui parliamo di fotografia e di video, ma il concetto è valido lo stesso, quindi vale un pochettino per tutte le discipline. Fatemelo sapere in un commento e vi ricordo anche di iscrivervi adesso al canale perché è possibile che io risponda con dei contenuti shorts, con dei video verticali, quindi se vi iscrivete adesso non rischiate di perderveli in futuro. Personalmente reputo che il blocco creativo possa scatenarsi per mille motivi, ma vado a citarvene alcuni che sono molto molto validi per me. Personalmente il blocco creativo mi si presenta in due contesti, quando ho troppo da fare o quando non ho niente da fare. Mi spiego meglio. Nel momento in cui sono pieno di lavoro, ho 200.000 cose da fare, sono stanco, mi avvicino alla zona burnout e quindi faccio fatica a essere creativo. Faccio fatica perché la mia testa è stanca, ho già prodotto, ho già fatto delle cose, ne sto pensando 100 altre e quindi lo sforzo creativo mi richiede una fatica maggiore. Faccio più fatica a mettere sul tavolo qualcosa di creativo, faccio più fatica a proporre qualcosa di sensato. Tendo a ricadere nei vecchi schemi e so benissimo che se sono un professionista sono costretto a farlo, non ho niente di creativo da proporre, benissimo, faccio lo standard che so già fare. Se sono un amatore questo è più complicato perché magari non ho un metodo di lavoro, non ho degli standard e quindi se non mi viene faccio fatica a proporre qualcosa perché o mi viene o non mi viene, non so cosa proporre. Il secondo caso in cui posso incappare in questa problematica è quando non ho abbastanza da fare. Mi capita per esempio magari nelle settimane estive in cui ci sono meno clienti, ci sono meno cose da fare, magari mi porto avanti sulle cose di settembre o magari concludo dei progetti personali, però storicamente è un momento in cui il mio cliente è in vacanza e quindi non mi fa tante richieste. Il mio cliente tipo in quel periodo richieste ne fa pochine. In quel momento se mi capita una richiesta impegnativa, una richiesta che richiede uno sforzo creativo, io sono fuori ritmo, sono sfasato perché non sto lavorando al mio massimo e quindi è un po' come se il mio fondo atletico, chiamiamolo così, fosse un po' in deficit. Quindi nel momento in cui mi arriva una richiesta difficile, quando non sto facendo niente o dopo un periodo di inattività in cui non ho fatto niente di interessante, faccio più fatica a riprendere il ritmo. Quindi queste sono le due possibilità in cui sono incappato io. O ho troppo da fare o sto cazzeggiando e quindi incappo nel blocco creativo. Come uscirne? Allora non esiste una ricetta magica. Io vi posso dire due cose. La prima, se avete troppo lavoro da fare e vi è richiesto di fare uno sforzo creativo, ci sono due possibilità. Se potete rimandare, fatelo. Se potete riposarvi, fatelo. Se potete prendere ispirazione da qualche parte nel frattempo, magari guardarvi un film al cinema, fare qualcosa di riposante che vi aiuti a resettare il cervello, è sicuramente la cosa migliore. Ma forse non potete farlo, perché forse lo shooting è fissato e forse il cliente ormai si aspetta delle cose da voi. In questo caso io vi consiglio di rubare. Andate a vedere cosa è stato fatto da altri, andate a spulciare qualche ideuzza, andate a vedere se qualcun altro vi regala lo spunto creativo che in quel momento vi manca. Rubacchiare in questo modo non è disonorevole secondo me, perché lo fanno tutti e è evidente che se io rubacchio un'idea da qualcuno non è che sto copiando 100% quello che lui ha fatto. Magari gli sto copiando, che ne so, l'idea di far cadere i petali sulla mia scena, ok, però poi la mia scena sarà diversa. Magari questo qui l'ha fatto su un matrimonio, magari io lo faccio su un'altra cosa, lo faccio su una cresima, quindi già la foto è diversa. Ho preso qualcosina, ho preso le prime due voci della ricetta, poi il resto l'amalgama l'ho fatta io. Quindi non credo assolutamente che sia disdicevole prendere ispirazione. Nel momento invece in cui vi capita un blocco di creatività perché non state facendo abbastanza e quindi vi arriva una richiesta, beh, sfruttate il tempo che avete. Se non state facendo granché, se non state lavorando come al solito, è un momento perfetto per prendersi un corso, studiare qualcosa, imparare una tecnica nuova, ovviamente con un minimo di oculatezza. Se devo fare un matrimonio non vado a studiarmi l'esposizione lunga all'infrarosso magari. Però quello potrebbe essere il momento migliore per girare una difficoltà a nostro vantaggio e andare a imparare qualcosa che poi possiamo vendere, utilizzare se siamo amatori per tutto il resto della nostra storia fotografica. Ma veniamo alle fotografie che vi mostro oggi. Ora, queste sono immagini che sono state scattate nella mia vecchia cameretta perché si parla di tanti anni fa. Queste qui sono fotografie di strumenti musicali che sono appoggiati sul loro stand. Dietro a questi strumenti musicali, come potete vedere, ci sono delle scintille. I più bravi di voi li avranno già riconosciute. Sono quelle cavolo di candeline che usano tutti a capodanno, quelle che non fanno il botto ma fanno quella fiammella che dura 30 secondi o poco più. Andiamo a vedere come sono realizzate queste foto. Allora, stanza oscurata, quindi come quella che ho io qui. Non ci deve essere nessuna fonte di illuminazione parassita, a meno che noi non la vogliamo. Io qui ho fatto silhouette. Noi avremmo potuto piazzare una luce davanti e illuminare il nostro soggetto. Io ho messo degli strumenti musicali ma poteva essere un'altra cosa. Si poteva illuminare il nostro soggetto così non avremmo avuto la silhouette ma avremmo avuto il soggetto illuminato. Consiglio comunque di farla in più step. Infatti nel mio caso io ho realizzato diverse foto per portarmi a casa l'immagine finale per una serie di motivi. Innanzitutto perché la quantità di scintille necessaria a tracciare il contorno di un oggetto di media grandezza come una chitarra è abbastanza elevato. Quindi io ho impostato 30 secondi di tempo di posa sulla mia fotocamera e questo mi dava il tempo di accendere lo stoppino e poi passare la mia fiammella su parte della silhouette ma non su tutta perché si spegneva prima e quindi dovevo fare un secondo un terzo e forse anche un quarto passaggio poi li ho sommati per fare più scintille per renderla un pochettino più accesa perché comunque avevo un po di tamarraggine addosso allora volevo che fosse una bella fiammata e quindi ho fatto più esposizioni facendo gli stessi passaggi andando poi a selezionare i pezzi migliori le scintille più belle quelle che erano venute meglio. Parametri di scatto stiamo lavorando a f16 una cosa che forse adesso non farei più f16 è un po estremo la scena era comunque tutta a fuoco era uno strumento musicale a una certa distanza quindi era comunque tutta a fuoco oggi avrei fatto f11 probabilmente e i tempi di scatto come detto sono 30 secondi e stiamo lavorando a iso 100 quindi abbiamo una scena statica stiamo lavorando con la massima gamma dinamica possibile col minor rumore possibile abbiamo un tempo abbastanza lungo perché ci serve tempo per passare le nostre scintille dietro al nostro oggetto quale che esso sia le scintille non vengono mosse perché la scintilla fa un movimento che impressiona immediatamente il sensore quindi laddove c'è una scintilla un po come come lavorare col flash quando parte una scintilla la scintilla fa il suo percorso poi si spegne e rimane impressionata così com'è sul nostro dispositivo nonostante stiamo usando dei tempi di posa lunghi quello però che viene impressionato con la scia è la parte incandescente del nostro stoppino della nostra candela quindi dobbiamo stare molto attenti a nascondere bene lo stoppino dietro al nostro soggetto perché ogni volta che lo facciamo uscire vedremo la scia infatti in certi casi nelle immagini che vi faccio vedere in certi casi vedete che ho sbagliato in certi casi ci sono degli svolazzi dove non ci dovrebbero essere ora nel caso di una chitarra che è una chitarra elettrica io ho fatto apposta fare uno svolazzo in basso che ricorda il jack il cavo della chitarra che può essere attaccato per andare all'amplificatore quello l'ho fatto apposta però gli altri svolazzi quando si intravedono delle parti di candela viva dietro la mia silhouette quelli sono errori sono cose che oggi avrei fatto meglio perché laddove vedo che ho sbagliato l'avrei rifatta all'epoca era un bel gioco quindi me la sono tenuta così e così ve la riporto non l'ho rifatta e non l'ho modificata non potevo fare il fenomeno e andare a sistemare le cose che non mi andavano bene ma invece le ho prese così come sono per farvele vedere anche per evidenziare le cose che potrebbero eventualmente essere migliorate ovviamente essendo su tre piede e avendo il mio scatto remoto io posso fare tutte le foto che voglio e tanto la camera non si muove quindi io faccio partire la fotocamera e parto nei miei 30 secondi di posa vado col mio stoppino a fare parte della silhouette sto un po all'occhio guardo che parte di silhouette ho fatto quando sento clac che scadono i 30 secondi accendo un altro stoppino faccio un'altra posa da 30 secondi e questa volta vado a fare un'altra parte di silhouette quindi pian piano la faccio tutta posso farla anche più di una volta per avere più possibilità per avere dei match diversi una volta terminato posso anche prendere una luce un altro tipo di illuminazione e illuminare frontalmente il mio soggetto per avere il soggetto illuminato con dietro la silhouette fatta di scintille io non l'ho fatto perché all'epoca volevo proprio realizzare la silhouette quindi ho usato solo le fiammelle per fare questa cosa se avessi avuto voglia di illuminare il mio soggetto bastava fare un ultimo scatto in cui facevo un po di light painting prendevo un quarzetto una lucina qualcosa e pennellavo sempre per 30 secondi davo delle pennellate di luce sul frontale del mio soggetto magari da 45 gradi così non facevo riflessi sulle superfici che magari nel caso del violino della chitarra sono delle superfici lucide quindi avrebbero creato un riflesso della luce che stavo puntando se lo vado a fare da 45 gradi o anche di più magari evito questo questo effetto fastidioso il risultato secondo me ancora oggi è carino è spendibile non sono foto che mi hanno fatto diventare ricco però è un esperimento carino che ho fatto ve lo consiglio soprattutto se siete in blocco creativo se state facendo fatica a creare nuove fotografie vi voglio raccontare una cosa che è molto disdicevole per me a questo riguardo io quando ho cominciato a fotografare siccome non avevo dei soggetti fotografavo bottiglie di birra abbandonate in giro per la città da chi che sia da ragazzi che bevono ragazzi che bevono i muratori non lo so c'erano bottiglie di birra dappertutto a milano ci sono ancora se per quello fate questo esercizio andate fuori e fotografate bottiglie vuote di birra agli angoli delle strade sui marciapiedi il sabato mattina se avete voglia e poi ne parliamo magari io facevo questa cosa fotografavo le bottiglie lasciate lì in maniera artistica con lo sfondo sfocato era un modo per me per capire per approcciare il mezzo fotografico e per capire come funzionava quindi è stata la palestra per me però quelle foto non avevano il minimo senso cioè che cosa io stavo cercando di comunicare niente c'è una bottiglia di birra vuota non comunica niente a meno che non ci sia uno sfondo di un certo tipo a meno che non ci sia qualcosa una persona un albero qualsiasi cosa che ti faccia capire che ti dia che ti trasmetta un messaggio una bottiglia di birra abbandonata sul marciapiede così non comunica niente adesso io ho la consapevolezza necessaria per sapere che quando vedo una bottiglia di birra abbandonata sul marciapiede non la fotografo perché è inutile perché se io la facessi vedere a qualcuno mi direbbe cos'è che cos'è questo perché me lo stai facendo vedere e allora io gli dovrei dire sai passeggiavo c'era una bottiglia di birra per terra e l'ho fotografata e quello direbbe ciumbia e hai pensato di dovermela mostrare non avevi niente di più bello da farmi vedere capite cosa voglio dire quindi cerchiamo di trovare un senso a quello che fotografiamo se è un tramonto fantastico il senso può anche essere semplicemente che è un tramonto fantastico però fare una fotografia della via dove abitiamo cioè usciamo di casa e bam fotografia della via a meno che non abitiamo in piazza del duomo non ha il minimo senso quindi cerchiamo sempre di ragionare su quello che stiamo facendo e dargli una chiave di lettura facciamo una prospettiva inusuale se vogliamo fotografare la nostra via non facciamo la via centrata per precisa perfetta perché uno guarda e dice cosa devo guardare non capisco cioè è il meteo mi stai facendo vedere che c'è il sole ragioniamo sui nostri contenuti sono importanti tanto quanto la strumentazione forse anche di più sono importanti tanto quanto la tecnica forse anche di più ricordatevi che una foto fatta con uno scopo ben preciso può essere molto potente anche se è fatta con un telefono schifoso mentre la macchina fotografica più bella del mondo produce immagini banali se non abbiamo pensato a che cosa mettere dentro nel fotogramma amici non mi dilungo oltre perché questo contenuto doveva essere breve invece l'ho tirata per le lunghe come al solito punitemi nei commenti ditemi quello che ne pensate vi ricordo di iscrivervi al canale vi do appuntamento come sempre al prossimo video